Profondità 800 piedi Branco a sinistra, direzione 3.1 Troppe direi I Speedbird sono in posizione, pronto al lancio del sonar Vanno verso il ghiaccio, si schianteranno Perché non riesco a capire Ecco perché È un maledettissimo trasmettitore Elfas Cosa? È un sonar a bassa frequenza, è illegale, non dovrebbe essere lì La parete sta accedendo È un sonar a bassa frequenza, è illegale, non dovrebbe essere lì Per favore, lo schienale, lo sollevi Stia seduto, è soltanto un voto d'aria, la ringrazio Mi sposo tra due giorni Allora auguri Per favore, allacciate le cinture, grazie Oh mio Dio Dottor Shimado, Emma McNeil Divenuta brillante oceanografa, nonché pilota Dottore Seiji, piacere di conoscerla E non trovate un modo per fermarlo Quel figlio di puttana diventerà padrone dei mari E se domini i mari, domini il mondo Guarda qui L'odore Il potere biologico del profumo In grado di attrarre tutte le specie Fonte di procreazione e di vita Basterà rilasciare nelle due baie stabilite I rispettivi feromoni delle bestie Lo squalo e la piovra verranno attratti dal profumo Convinti di trovare dei compagni che li aspettano Ok Ora sganza Ho detto sganza So, ho sentito Che stai facendo? Si è bloccato Allora signori, vi decidete a sganciare quella benedetta esca? È forse sordo il braccio, si è bloccato Signore Cosa? L'obiettivo ha superato le prime due esche Sta seguendo la nostra rotta L'obiettivo si dirige verso il Golden Gate Mi ha sentito L'obiettivo si dirige verso il Non ho più il segnale Obiettivo perso, signore Chiamate Shimado a Tokyo Li faremo rivivere la stessa battaglia combattuta prima dell'ibernazione Useremo di nuovo i feromoni come nell'altra operazione È stata l'unica cosa che ha funzionato alla perfezione Avanti dritta Tutto procede secondo i piani Mantenete la rotta verso nord Obiettivo è un avvicinamento È a 50 metri 40 30 Capitano si è fermato all'improvviso C'è qualcosa Ma non riesco a vedere molto bene Funziona Combattono tra loro Che succede? Chi sta vincendo? Si sente solo un suono fortissimo Si sono separati Si leccano le ferite ma non è ancora finita Capitano si sono distanziati ma sono vivi Proprio quando pensi che non ci sia logica tutto torna a posto S'hanno colpito Colpito? Certo sera Guardi lì Santa madre di ti 6G È il bravo di un suono Procedo Sì 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Cos'è quella? Beh, stavo pensando... Oh, no, professore. Niente avventure, ne basta una nella vita. Che cos'è? Altre forme di vita. Infrarossi, ma a che tipo? Direi di specie organica. Preservata. Dov'è stata fatta? Nel mare del nord. Siete pronti? Ah, sì. E tu? Andiamo. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Oh, no. Assiete pronti? Grazie a tutti.